buonasera allora penso che della formazione anti empoli poco importi nel senso che vedremo saranno scelte che farà poi allegri proprio nell'imminenza della gara che sarà io penso una delle più surreali che la juve giocherà in questa stagione perché adesso al di là di tutto è vero corazzati è vero collaudati è vero che sono già successe queste cose eccetera ma scendere in campo pochi minuti dopo o poche ore dopo che sei stato nuovamente penalizzato ragazzi non credo che sia facile quando sai che praticamente le ultime tre giornate quindi compresa appunto la volta con l'empoli rischiano di essere sostanzialmente inutili non mi stupirei se arrivassero tre risultati negativi non dico tre sconfitte ma tre risultati negativi perché qua veramente la juve dovrebbe dare fondo a tutto quanto le è rimasto a livello di orgoglio e che credo che anche queste partite comunque dopo la prima penalizzazione la restituzione dei punti e le motivazioni del collegio garanzia che ti fanno presagire appunto o che ci sarà una penalizzazione credo che tutte quelle energie di orgoglio si stiano anche un po' prosciugando non voglio mettere le mani avanti ma diciamo che mi stupirebbe di più lo dico forse mi stupirebbe di più una vittoria e magari una vittoria larga domani a empoli di qualunque altro tipo di risultato anche se l'empoli è già salvo aritmeticamente quindi ha poco da dire eccetera c'è sempre il prestigio di poter battere la juve perché che se ne dica e comunque vada questa stagione la juve resterà sempre sempre per sempre e più di ogni altro l'avversario da battere l'avversario che tu ti metti che se l'hai battuto te lo metti nel curriculum personale di squadra se poi ci hai segnato contro è al primo posto del tuo curriculum di cosa hai fatto nella vita ho segnato un gol alla juventus e magari con quel gol ci ho anche pure vinto la partita di squadra quindi credo che sia la cosa più importante almeno a livello italiano del curriculum del calciatore una delle cose più importanti parlo di successi personali naturalmente no perché se ha vinto tanti scudetti nel curriculum ce li mette ci mancherebbe altro quindi non è che mi aspetto più di tanto e mi metto un po' anche nei panni di questi giocatori che sostanzialmente vanno a giocare tre partite del tutto più rilevanti dal punto di vista della classifica perlomeno di quella che potrà essere eventualmente riscritta e dalla sentenza che arriverà domani e da quella successiva per quanto riguarda il filone e manovra stipendi eccetera ma di questo naturalmente parleremo poi un finale di stagione con una eliminazione da una europa league in semifinale fa uscire anche determinate frasi che magari in un altro momento o se la juve fosse arrivata fino in fondo non sarebbero state mai pronunciate quella di cesni che era passata un po in secondo piano è stata molto importante cesni dice quando un portiere è il migliore in campo c'è qualcosa che non va è vero che è successo quello che è successo ma una stagione per la juve senza titoli non è una stagione da juve e devo dirlo mi è spiaciuto oggi ascoltare questa replica di massimiliano allegri che sostanzialmente ha detto di cesni che magari si è espresso male perché non ha padronanza della lingua italiana credo che cesni la lingua italiana la conosca e anzi si sappia esprimere molto bene nella nostra lingua e che quanto ha detto dopo la partita appunto contro il Siviglia rispondesse esattamente a quanto pensava usando le parole più appropriate quindi questa cosa significa che se allegra il risposto in questa maniera evidentemente è stato un po' toccato da queste parole ha cercato di smorzarne il tono ma l'eco di queste parole come vedo e come noto leggendo sui social sui vari siti eccetera c'è stata c'è stata l'eco di queste parole e l'eco della risposta di massimiliano allegri non so come l'abbia presa cesni magari prima della fine di questo campionato verrà a parlare ci sarà modo di fargli questa domanda non so come abbia preso queste cesni questa risposta ma è un botta risposta non indicativo diciamo così di una non perfetta armonia la mettiamo giù così io ho sempre detto ragazzi che dopo monza fu fatto un patto di non belligeranza termine per carità che lasciamo alle situazioni molto più gravi di quelle che riguardano una squadra di calcio un patto per proseguire tutti verso il medesimo obiettivo e a maggior ragione questo patto è stato intensificato dopo la prima sentenza ma un patto di non belligeranza non esclude che ci siano stati prima e che ci siano in corso eventualmente dei possibili dissapori tra la panchina e una parte della squadra in tutte le squadre così ragazzi l'armonia non esiste intima intima l'armonia a volte può essere appunto suggerita da un comportamento di non belligeranza appunto per arrivare a un determinato obiettivo questo ve l'ho sempre detto ed è normale che poi quando le cose non vanno bene certe situazioni escano e devo dire che la stessa cosa si può più o meno affermare per quanto riguarda quadrato io ve l'avevo già fatto notare ancora prima che quadrato si era espresso in quel modo in conferenza stampa alla vigilia quando aveva affermato ma se il mister ce lo consente noi andremo a prendere alti il civiglia oggi allegra detto quadrato ha fatto una battuta è vero era una battuta tant'è vero di quadrato aveva anche con allegri di fianco aveva anche ammiccato con una certa espressione ma ragazzi ma le battute sottintendono una volontà di affermare una cosa vera no la battuta alla fine vuole cogliere nel segno e vuole stimolare allegra risposto io devo far giocare la squadra secondo le sue caratteristiche quindi secondo allegri questa squadra non ha le caratteristiche per andare a pressare alto non ha le caratteristiche per poter giocare per dirla tutta sostanzialmente come per esempio il manchester city anche se li dobbiamo parlare effettivamente di un altro sport di altri giocatori di un altro spessore di squadra di un'altra intensità quindi è chiaro che non si può paragonare o non si può prendere come punto di riferimento del manchester city si può prendere come punto di riferimento eventualmente una via di mezzo quando vi dico che a me non è mai piaciuto come gioca la juventus e lo ribadisco anche stavolta è perché mi augurerei mi piacerebbe vedere una sorta di via di mezzo tra questo tipo di atteggiamento e quello di una squadra molto più compositiva ed è possibile ottenerlo credo so anch'io che per caratteristiche questa squadra non può pressare alto e al tempo stesso costruire con la velocità la rapidità e la quasi la perfezione di esecuzione dei giocatori del manchester city però qualche cosa di diverso mi piacerebbe vederlo rispetto a questa squadra ma resta il discorso relativo al fatto che questa situazione il mancato raggiungimento di un obiettivo può far venire a galla quelle che sono normali discussioni interne o possono essere normali dissapori interni tutto qua poi per quanto riguarda il destino di allegri restiamo dell'idea che lui si sente juventino al cento per cento ma l'ho sentito e l'ho visto piuttosto a disagio nel dire queste cose e poi ci sarà una società che deciderà anche se c'è chiaro vi dico ancora buonasera iscrivetevi al canale e ci vediamo naturalmente domani con il solito canovaccio intervallo diretta su facebook fine partita con l'empoli non sarò ad empoli fine partita con l'empoli video su questo canale ciao